nottemboli sempre inaugurazione summer season 2009 qui al blau rider fantasy villa abbiamo incontrato addirittura una persona che si è talmente divertita questa notte che ha deciso di sposarsi addio annubilato bello 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 guarda che ci sono un bel po di nottemboli campania che ti guardano da vari emittenti televisivi che salutiamo se ci vogliono guardare dal web la cosa più semplice qual è andare su youtube e cliccare su nottemboli tv noi come nottemboli siamo anche lì su facebook sia con il nostro gruppo ufficiale quindi basta andare su facebook e digitare cosa nottemboli tv ma quanto è brava io vi chiamo un bacio carnale da donna ancora per poco non ammugliata non resta ma non vogliamo più un carnale senza mano prego come si chiama il tuo uomo massimiliano massimiliano nottamboli nottamboli ci sono guardate un po che ho trovato qui al blau rider nottambule vi conviene venire siamo con francesco e con vincenzo ma stasera inaugurazione summer season del blu rider come la state trovando è molto bella piena di bella gente ci stiamo divertendo parecchio ma voi da dove arrivate bene vento bene vento le brasiliane le avete viste si si molto belle e molto belle e troppo buono sono più sciolte di noi però noi si adattiamo a loro ma un pallettino me lo fareste volentieri vabbè con loro si sicuramente con loro si è però eh plaudete visto che le brasiliane le avete viste vi state divertendo avete bevuto mica guidate come? mica guidate no 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 c'è chi? e praticamente non si deve mettere a bordo ottimo cia poffa cia poffa nottamboli voi state per prendere fuoco nel senso non erotomane del termine io lo so che voi la state guardando in questo momento lei è una fakira particolare per maggiocolina o fakira perdoni? fakira fakira io non avevo mai incontrato una fakira di rissa domaso e poco ah ok com'è questa scelta? fetish sadomaso è fetish sadomaso perché la classe è classe io mi rendo conto di essere poco fetish mi rendo proprio conto poi in modo particolare guardate zoomami un attimo pochissimamente fetish però i nottamboli sono abituati a un tormentone che non è chiacchierato non è parlato e baciato ma io vorrei chiederti come potrebbe essere un bacio molto 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 fetish a loro ovviamente allora e che oggi non indosso il piercing sulla lingua perché sarebbe un po' leccato con il piercing sulla lingua però l'ho lasciato a casa vabbè ok mi ha in modo diplomatico detto senti io questo bacio a loro che stanno lì dietro non glielo voglio dare io ci riprovo vogliamo darne uno solo molto summer visto che siamo in tema di apertura dai ok fammi vedere con noi allora ragazzi direttamente dal Brasile vi chiedo con tutta la cartesia cliccate su Facebook un bacio a tutti grazie 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 particolare, sempre caratterizzata dagli eventi legati al beverage, quindi tequila party, sangria party rum e pera party ne avremo tante di serate di giovedì, night sempre con la formula food and drink, 5 euro pizza, patatine e birra Anto Vakal Mamma mia, eh! Venerdì ragazzi, vi aspettiamo in una serata davvero elegante soft music animazione, chill out però tanto, tanto tanto ambiente quindi tutti i venerdì Blue Rider abbandona un po' quello che è il mondo adrenalinico dei come dire, delle serate notturne e vi aspettiamo in un ambiente davvero soft, dove degustare le migliori specialità della cucina del Blue Rider, un saluto caloroso dal Blue Rider da me e da loro ciao ragazzi! ciao! 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 Grazie a tutti